Allora ciao Stefano, sono all'Italian American Club che la domenica mattina qui a Clearwater in Florida ha un sacco di italiani, italo-americani che giocano a bocce e allora qua abbiamo un partecipante del club degli Amici Amici Club che è un club molto esclusivo e quindi adesso chiediamo a lui qualche informazione insomma quello che alcuni italiani come lui pensano appunto di queste elezioni quindi la prima domanda è cosa voteresti, Clinton oppure... Ti dico la verità, io non è che devo dire chi ho votato e come ho votato, sono neutrale dunque non posso dire a chi ho votato e a chi non ho votato, per me uno o l'altro mi fa piacere solo un buon presidente, una buona direzione per questa nazione Certo, però sai che la Hillary seguirà sicuramente le politiche che sta facendo adesso Obama quindi tu cosa pensi? Che sia buono seguire la stessa politica che sta facendo Obama oppure che vorresti migliorare qualche cosa? No, ci deve essere un cambiamento, questo cambiamento non si sa quando il nuovo presidente arriverà si vedrà il cambiamento può darsi che va di bene, può darsi che va di iscreto, non si può accertare cos'è prima si arriva con un presidente che sa quello che fa insomma vogliamo migliorare l'America, la nazione e anche il popolo che si è stanchi di essere sempre uguale, abbiamo bisogno di un cambiamento un cambiamento generale, sì di lavoro, di situazione, anche di protezione Certo, ecco invece a proposito di protezione Trump pare che sia visto in Europa come un personaggio pericoloso perché lui si vuole avvicinare alla Russia di Putin quindi tu come vedi i russi come dei nemici oppure c'è qualcosa? Ora guarda ci troviamo in un momento di un ragionamento sbagliato perché non voglio partecipare a rispondere a una risposta che non sono competente sia della Russia che sia delle condizioni delle nazioni allora cerco di non avere questa risposta Ok, allora vediamo che cosa succede, vediamo chi vince Sì, dell'uno che dell'altro, vi do un buon augurio e che riesce tutto per bene sia da una parte che dall'altra Dai, perfetto, allora ok, grazie Grazie per l'intervista, grazie di avermi, aver dentro a questa intervista e ho piacere qualche altra volta se ci si continua ancora con un'altra intervista insomma